Grazie a tutti Sì lo so il video dell'ultima volta è stata qualcosa di interminabile Spero di non ripetermi più Cercherò di frenarmi Vedrò meglio l'orologio questa volta Vorrei fare qualcosa di più breve Dicono che qua ci stanno ancora delle faccende da sbrigare E che faccende da sbrigare ci possono essere? Devo tornare sulla torre di Katrin? Sarebbe bello se potessi diventare più forte ogni volta che la scalo Sarebbe anche troppo facile Allora Ah la mia velocità mi fa sbagliare Perdonatemi Potete anche non perdonarmi Ragioniamo Cercare l'abbiamo fatto Abbiamo parlato con Postoro Non si può andare a est A ovest Se vado a nord Arrivo in questa foresta Troppo quiete dice Dice che ho ancora qualcosa da fare Però non capisco bene che cosa Chissà che cosa Normalmente magari Devo usare qualcosa Ma anche no Cercare niente Mi sento come un topo In drappola Non posso Non mi dico niente in più Ma no Oggetti particolari da usare Che cavolo devo fare? Cioè Non ho capito neanche bene perché hanno messo questa diciamo Posizione La possibilità di Premere nord Se effettivamente non ci posso andare Cioè Dovrò fare qualche cosa Ma mi chiedo Che cosa Ability Anche quei desti Alleati Non è che ho capito molto bene A cosa mi servono Non posso neanche andare ancora più a destra Se faccio cerca Su svariati punti Dalla Karin Tower Cambia qualcosa? Sembra di no Aha Ecco cos'era Sono stato Sciocco Ok Non me lo sarei mai aspettato Effettivamente Dovevo anche pensare un po' prima Dobbiamo tornare al villaggio Dobbiamo andare al villaggio pinguino Dove si trovano Il dottor Slampe Arale Sarà interessante Invece alleniamo come solito Un tamburine Tanto ci vogliono 110 punti esperienza Siamo a livello 8 Oramai anche un tamburine In teoria non dovrebbe essere Una grande minaccia Debole non è Però 5 carte Ho già visto quelle forti Una tonda Uffa Non me ne ero accorto Per una carta della fuga Un altro tamburine Vediamo Conco d'este carte Che combino Aia Ho preso un calcio in bocca Bene Oh Meno male che l'ho schivato Non mi capitano carte Buone E vai Ottimo Ottimo davvero Bene Mi sono anche curato Un altro Benjo Che sarà appunto Comunque più debole Di tamburine Kamehameha E arrivederci Presumo Ottima cosa Questo è il villaggio Pinguina Siamo in cerchio Che le spie del drago A Twig Asfall Una Twig Parrucca Ok Siamo a nord Siamo andati a nord Se andiamo a sud Torniamo indietro Ok La casa di Sam Bay Oh oh Eccolo qui Ci sono molte macchine Secondo me Secondo me succederà qualcosa Se proviamo a colpire la porta Un po' come Quando siamo affogati Però noi ci proviamo Kamehameha Abbiamo aperto la porta Abbiamo aperto la porta Sam Bay Era intrappolato dentro Poveraccio Chi sarà stato Un coniglio Chiamato Tony Njika È venuto Arrapito Una persona Tutte le persone In carote LOL Allora dovremo intervenire Allora dovremo intervenire Per la pupù Ok Un passaggio tra delle rovine Ok Ok In questa casa Non ci possono Uh Arale Congiacciando Vuole venire anche Le chissà Forse se torniamo indietro Ora cambierà qualcosa Forse magari alle macerie Cambierà qualcosa Però io provo lo stesso No Forse dobbiamo Semplicemente Tornare a casa Di Sam Bay Sud LOL Posso parlare col sole Col sole Ma non cambia niente Stiamo giocando L'ho capito Però No Aspetta Ok C'è la scuola Ci sono un sacco di carote Saranno persone Ecco il coniglio Questo è il coniglio Che noi abbiamo spedito Sulla luna Che Goku spedisce Sulla luna Normalmente in Dragon Ball E abbiamo delle schifo di carte Per affrontarlo Oh Abbiamo evocato Arale Arale è un robo Quindi non può essere trasformato In una carota Mi sembra giusto Ok Sarà tornare tutti normali Bene Oh Suppa Il nostro caro eroe Che mangia prugne Ci ringrazia Ci vuole dare un'informazione Su degli alieni Andiamo a destra Andiamo a Nord No Nord 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 Forse nella casa Ora No Nord di nuovo Abbiamo trovato la naricella Di Ajirobai Cosa ci fa qua Di Ajirobai Ha una Sì Ha una Sfera C'è in balo Questo è il demone Che affronta Ajirobai Io vorrei combatterlo E poi interrompermi Per fare un video breve Magari finiremo Questa parte La prossima volta Sperando di batterlo Ovviamente A livello 7 Comunque Non è debole Ah vabbè Ora Già Ho qualche carta Che forte Bene Ajirobai Vabbè Non ci ha fatto Che male Ora si Se mi capitasse Pure qualche carta Buona Ok Sono morto Va bene Beh Penso che mi interromperò Qui Tanto abbiamo capito Cosa dobbiamo fare E il tempo stringe Perciò Continueremo la prossima volta So che non è avvenuto Praticamente Niente Però Beh Abbiate pazienza E la prossima volta Finiremo questa parte Del villaggio Pinguino Le spezie Beh Andate avanti Sicuramente Troverete qualche cosa Qualche spezia Gustosa Da vedere E detto questo Ci vediamo Alla prossima volta Sempre qui Se lo rebuttate Non perdetevi I nostri altri video E Ci vediamo appunto Con me Ci vediamo A capsula del tempo Sempre qui Con Dragon Ball Dime Ciao ragazzi Bene ragazzi Rieccoci nuovamente Alle spezie Questa volta Saranno nuovamente tre Quindi Andiamo immediatamente A vedere Qualche elemento Visto in questo gameplay Numero 1 Karin Karin O Sembio O Eremita Gatto O Balzar Nella versione italiana È un gatto umanoide Che vive sulla cima Di un gigantesco belisco Nella terra sacra di Karin Compare per la prima volta Nella saga del Red Ribbon Quando Goku Incapace di sconfiggere Tao Pai Pai Decide di scavare La torre Per tentare di bere La leggendaria Acqua Sacra Karin mette a dura prova Goku Che inizialmente Non riesce a recuperare L'acqua Do lui custodita In alcun modo Perché non è abbastanza Agile per il felino La situazione Sembrava disperata Quando Karin Confessa che Il maestro Muten Mentore di Goku In gioventù Ha impiegato ben tre anni Per recuperare l'acqua Tuttavia Goku si dimostra Ben superiore al suo maestro E grazie ai frutti Di tale allenamento Riesce a recuperare l'acqua In soli tre giorni Ovviamente L'acqua si dimostra Essere solo un blef Un mero pretesto Per allenarsi In quell'occasione Ma Goku riesce comunque A sconfiggere Il terribile killer Con la sua nuova forza Nonostante ciò Karin possiede davvero Un'acqua magica L'acqua ultra divina In grado di risvegliare Il vero potenziale Di chi la beve Se questi però È degno Ed è sufficientemente forte Grazie a quest'acqua Goku acquisisce La forza sufficiente Per combattere la pari E sconfiggere Il grande mago piccolo Karin È l'unico a possedere A coltivare I leggendari Sensu O fagioli di Balzar Il legume miracoloso In grado di guarire Istantaneamente Ogni ferita e fatica E di sfamare Chi ne mangia Uno per dieci giorni Tale cibo È stato fondamentale Durante tutta la serie Per le battaglie Dei guerrieri Zeta Nonostante l'aspetto Karin è considerato Il dio delle arti marziali E possiede un'immensa forza Considerato Quando appare nella serie Con un livello di combattimento Di 190 Secondo il weekly shonen jump Rendendolo più forte Persino di Goku Anche dopo il 22esimo Torneo mondiale di arti marziali Dopo la sua battaglia Con Tenshinhan Egli è nato Approssimativamente Nell'anno meno 50 Ossia 800 anni Prima del suo incontro Con Goku Avvenuto nell'anno 750 Toriyama Per disegnare L'aspetto di Karin Si è basato Sull'aspetto Del proprio gatto Nonostante Quasi tutti Conoscono un Karin Di colore bianco In realtà Come si vede In questo gameplay Karin possiede Una pelliccia Di colore blu Anche se non combatte mai Nel corso della serie Eccetto quando Mette alla prova Goku Karin possiede Alcune abilità particolari Oltre al semplice volare Come la lettura Del pensiero La possibilità Di lanciare Dei colpi Di chi invisibili E la possibilità Di vedere Tutto ciò Che accade Nel mondo Sotto di lui Un po' Come fa Kami Dal suo sentuario Inoltre Karin E' anche L'inventore Della tecnica Zanzouken Il colpo Dell'immagine Residua Utilizzato Dalla maestra Muten E insegnato A Goku E ad altri allievi Il suo nome Deriva da K-A-Rin Termine giapponesi Utilizzato Per identificare Le mele cotogne Il suo indirizzo È FFA44195SQ Karin Gestisce E comanda Anche un gigantesco Banco di Kinton La nuvretta d'oro Di Goku A cui fa dono Di una piccola parte Per ripegarlo Della perdita Della propria Karin compare Per tutta la serie Di Dragon Ball Anche se il suo ruolo Diventa marginale Apparendo spesso Insieme a Yajiro Bay Sempre sulla sua torre A fare il punto Della situazione A giudicare Gli avvenimenti correnti Con fare da saggio Numero 2 Mostro Carota Il mostro Carota Detto anche Boss Coniglio Carrotizer Bunny O Tonin Jinka È un coniglio Antropomorfo Capo della banda Del coniglio E antagonista Minionoli di Dragon Ball Appare nella prima saga Quando Goku e Bulma Vanno alla ricerca Delle sfere E fanno sosta In un villaggio Terrorizzato Dalla banda del coniglio Dopo averne sconfitto I minion Il gruppo Si ritrova di fronte Il mostro Carota Che trasforma Bulma In una carota E sarà necessario L'intervento di Yamcha Per salvare la situazione E permettere a Goku Di sconfiggere il ninjinka Portando lui E i suoi uomini Sulla luna Grazie al suo bastone magico Il mostro Carota È nato nell'anno 698 È alto 159 cm E pesa 61 kg Egli ha il potere Di trasformare in carote Qualsiasi essere vivente Ma alcuni giochi del franchise Dando per scontato Che egli abbia anche altri poteri Il mostro Carota Condivide le caratteristiche Di trasformare le persone In cibo Con Majin Bu Che fa la stessa cosa Ma trasformando la gente In cioccolato e caramelle Ironicamente poi Egli ha rischiato Di trasformare Goku Il cui vero nome Guarda caso È proprio Kakarot Che è un riferimento Alle carote Dopo la sua sconfitta Ed essere portato sulla luna Non si sa molto Del mostro Carota E dei suoi uomini Essendo al tempo sopravvissuto Siccome Dragon Ball Era un manga umoristico Per certi versi Tuttavia Con la conseguenza Di distruzione della luna Ad opera Del maestro Mutain Durante il ventunesimo Torneo mondiale Di arti marziali Secondo un'intervista Al maestro Toriyama Egli sarebbe sopravvissuto Insieme ai sui uomini E avrebbero cominciato A vagare per lo spazio Numero 3 Villaggio Pinguino Il villaggio Pinguino È una piccola cittadina Situata sull'isola Jengoro La versione immaginaria Del Giappone Rappresentata nel manga Di Toriyama Il villaggio Pinguino È il luogo dove Si svolgono tutte le avventure Del Dr. Slump Altro manga Di Akira Toriyama Del 1980 Precedente al Dragon Ball Esso appare anche in Dragon Ball Durante la saga Del Red Ribbon Durante l'inseguimento Tra Goku E il generale Blue L'aereo del militare Precita nei pressi Del villaggio Pinguino E poi si si reca La ricerca di un aereo Per poter tornare alla sua base Egli ne troverà uno A casa del Dr. Senbei Norimaki Ma verrà ostacolato Dalla presenza di Arale Che lo farà volare via Dopodiché Turbo Il figlio del Dr. Slump Costruirà un nuovo radar Del drago per Goku Il villaggio Pinguino È un luogo più unico Che raro Nel mondo di Dragon Ball Qui sembra che Non solo le persone Gli animali Ma anche alcuni oggetti Le montagne Il sole Sono dotati di personalità E sono esseri viventi Quasi tutti gli abitanti Del villaggio Tendono a rompere La quarta parete E si rendono conto Di trovarsi in un manga In un anime Al villaggio Pinguino Non si utilizzano Capsule ai poi Né forze di difesa A parte la polizia locale Il sistema di istruzione È abbastanza diversificato Con un livello più basso Rispetto al resto del mondo E soprattutto C'è una variegata Presenza di razze aliene E di androidi All'interno del villaggio Personaggi particolari Importanti o influenti Del villaggio Sono Il dottor Sanbeno Rimaki Lo scienziato del paese Insieme a sua moglie Midori Il figlio Turbo Gli androidi Araleo Bocciaman E i due angeli Lettiga Chan La famiglia Tsun Dotata di poteri soprannaturali La polizia locale Re Niko Chan E il suo servo Superman E gli uomini Provenienti dal pianeta Okakam Umeboshi Gli uomini cacca E molti altri strani personaggi Consiglio ovviamente A tutti gli amanti Dei manga umoristici Editori Yama Di leggere Dr. Slump Per chi non l'avesse ancora fatto